Buonasera a tutti, volevo iniziare ringraziando la federazione slovacca nella persona del presidente Kovacic perché mi hanno concesso questa opportunità di venire a Napoli e li ringrazio tantissimo perché in merito è loro, dei giocatori della nazionale e ringrazio anche il popolo slovacco perché mi ha manifestato grande stima. Bene, un ringraziamento doveroso. La regola per questa conferenza stampa è che ogni testata decide se fare la domanda al capitano e la domanda, oppure la domanda al mister Calzone in modo da poter dare la parola a più personaggi possibili visto che ci sono anche dei colleghi spagnoli tipo credo quel signore che ha alzato la mano. Però io partirei prima con l'Ansa, anzi con la Gazzetta dello Sport, poi Ansa e poi quel signore. Grazie, prego. Buonasera mister, Vincenzo D'Angelo, Gazzetta dello Sport. Le chiedo intanto da dove si inizia quando è arrivato in corsa, alla vigilia di una partita così importante, che corde ha toccato, cosa ha detto intanto ai giocatori, da dove si deve ripartire secondo lei? Ma si riparte da oggi, si resetta tutto, si inizia un nuovo cammino, ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione, poche parole perché in questo momento abbiamo bisogno di fatti, per cui ci siamo intrattenuti pochissimo tempo e poi siamo andati subito in campo. Ansa per chi? Francesco per il tecnico Calzona, buonasera Francesco, Ansa. Le chiedo una cosa al volo prima di tutto sulla Champions, domani c'è lo stadio Maradona pieno e le chiedo prima di tutto un messaggio ai tifosi del Napoli che stanno vivendo una stagione un po' complicata, quindi vogliono una frase da lei prima di tutto e poi come ha trovato Simen, perché insomma da quando è tornato dall'Africa abbiamo visto che aveva un po' di problemi fisici, come sta? Ma è chiaro che il pubblico di Napoli è un pubblico speciale, però più che chiedere a loro dobbiamo essere noi a renderli orgogliosi, per cui il compito è per noi, più che chiedere a loro dobbiamo essere noi a portarli, a renderli felici con le nostre prestazioni e con i risultati da ora in avanti. Osimene come sta? Osimene. Ma Osimene si è allenato, ha fatto allenamento con la squadra, chiaramente non è stata una seduta lunghissima, perché c'era tante cose da fare, comunque si è allenato a pieno ritmo e sarà valutato come il resto della squadra anche domattina dopo l'allenamento. Collega spagnolo, quel signore lì. Buongiorno, è José Alvarez per il ciringuito dell'Espagna. In Espagna siamo sorpresi per la situazione. Che cosa può cambiare un allenatore in una squadra in 24 ore? se hai paura della Barcelona. Ma un allenatore può cambiare poco, però noi non abbiamo tempo. Dobbiamo accelerare questo processo di apprendimento. Per cui io ai giocatori ho detto che non abbiamo più scusanti. Dobbiamo migliorare la nostra posizione in questo momento. E poi è chiaro che Barcellona è una squadra forte. Barcellona è una squadra forte, è passato qualche momento di difficoltà. però è una squadra forte, una delle più forti che ci sono in Europa. Per cui chiaramente non abbiamo paura perché noi siamo il Napoli. Va bene, però nessuno può nascondere che giocano grandissimi giocatori e hanno un top allenatore. Andiamo sul Corriere dello Sport. Poi Mattino, Repubblica e Mediaset. Ciao Ciccio, ci diamo del tu perché altrimenti sarebbe ipocrita. Un po' Sarri e un po' Spalletti. O tutti e due, non lo so. Chi è Calzona? Ma io ho lavorato con due, tre grandi allenatori perché includo anche Di Francesco che stimo moltissimo. È chiaro che mi hanno trasmesso tantissimi concetti che chiaramente mi aiuteranno nel mio proseguo. Poi chiaramente ci ho messo del mio, ci metterò del mio. Però per me sono stati tre allenatori importanti. Mattino per Di Lorenzo. Capitano, buonasera. È il terzo allenatore che cambia. Da parte vostra, quali sono i momenti, come viene vissuto? C'è anche, al di là di quello che succede quando c'è il Presidente, quando c'è il nuovo Mister Calzona, non ha un faccia a faccia tra di voi in cui c'è un'assunzione di responsabilità per come stanno andando le cose quest'anno. Ma intanto buonasera a tutti. Sicuramente quando si cambia allenatore per la terza volta vuol dire che c'è qualcosa che non va, che la situazione non è bella. Però la squadra è cosciente della situazione, ha preso coscienza della situazione e sa che deve fare di più. Questo sicuramente. Adesso ci metteremo subito al lavoro con il nuovo Mister per cercare di uscire tutti quanti da una situazione che non ci vede contenti. I responsabili sono tutti. Lo siamo noi giocatori che andiamo in campo e quindi la squadra, come ho detto, è cosciente di questo e sta andando al massimo per uscire da questa situazione. Andiamo con Repubblica. Ciao, eccomi qua. Bentornati innanzitutto. Ci racconti un po' le tue sensazioni di tornare a Napoli dove sei stato da vice come primo allenatore e debuttare dopo un giorno in Champions League? Beh, chiaramente sono contento. quando sono arrivato in tangenziale mi è salita l'adrenalina. È chiaro che il debutto è importante subito con una squadra importante, con un avversario forte, però tutto questo non mi spaventa perché il Napoli è una squadra forte, deve ritrovare alcuni concetti, però è una squadra forte e questo mi rende felice. Media 7, poi Corriere della Sera. Per il Capitano. Ciao Capitano. Il mister lo conosci, molti di voi lo conoscono. Volevo chiederti che cosa vi può dare il mister che non vi ha dato Rudi Garcia, che non vi ha dato Mazzarri e che cosa potete dare a voi, dovete dare voi al mister per cercare di ripartire subito in una maniera molto forte. Sì, sicuramente il fatto che il mister conosce tanti giocatori e accelera il processo di conoscenza e questa è una cosa positiva per noi, per il mister. Insomma, ci può dare tanto. In questo primo giorno è entrato nell'ospediatore con un grande entusiasmo e ce l'ha trasmesso da subito, dal primo allenamento, quindi dovremmo ripartire insieme e come ho detto, perché è una situazione che non ci vede contenti, ma tutti insieme, uniti, vogliamo far bene e ci rimane ancora una stagione da giocare, quindi siamo tutti focalizzati su questo. Corriere della sera e poi andiamo dagli spagnoli. Salve, mister, bentornato intanto. Giustamente lei ha detto che questo è il momento dei fatti e non delle parole perché i tempi veramente sono strettissimi, però io le chiedo, ha detto anche il Napoli è una squadra forte, si è fatto un'idea di quello che evidentemente non ha funzionato in questi primi mesi? prima ha detto deve riacquisire delle metodologie, no? Secondo lei è soltanto un fatto tattico o anche un fatto mentale? No, non parlavo di metodologie, parlavo solamente di convinzione, è un concetto diverso questo. Io ho detto che è una squadra forte perché ci credo, perché lo hanno dimostrato l'anno scorso a tratti lo hanno dimostrato anche quest'anno ed è una squadra forte dove ha fatto bene in Champions facendo un ottimo girone stravincendo il campionato e questo io ne sono totalmente convinto di tutto questo. Questi due signori spagnoli prima... Buonasera per l'allenatore vorrei fare la domanda in spagnolo Bernardo Sule di Cataluña Radio che ha potuto vedere del Barcellona questa temporada? Non so se ha visto partidos, se si è passato la noce viendo videos. Come ve usted al Barcellona? Che sabe del Barcellona che si incontrerà mañana? Ma ho guardato il Barcellona da sportivo finora perché chiaramente quello che mi è successo ora era inaspettato però nella squadra forte oggi abbiamo guardato tante cose di loro mi aspetto una partita dura però noi partiamo per vincere la partita perché la mia mentalità è cercare di vincere tutte le partite indipendentemente dall'avversario che abbiamo di fronte. Vai con l'altra. Buonasera mister e benvenuto Francesco Carbone Tele A le chiedo qual è stata la prima cosa che gli ha chiesto il presidente dell'Aventis e se nei mesi scorsi già ci sono stati dei contatti mi scuso pensavo che fosse un collega spagnolo però comunque è andato vai o è nato tutto negli ultimi giorni? No guarda a me non mi ha mai contattato nessuno io ho parlato con con la società solamente domenica nel passato non mi ha contattato assolutamente nessuno ma il presidente chiaramente come ha detto anche Giovanni non è contento della situazione mi ha chiesto di credere fermamente ai nostri obiettivi che è quello di andare avanti in Champions e quello di cercare di arrivare a un posto che ci possa qualificare prossima nella Champions questa collega spagnola immagino prego Buonasera Laia Coel de Arracù una pregunta para il capitano Giovanni te quería preguntar para todos que non siamo esportistas professionales si nos puoi explicar que influencia può tener per un deportista che si trova una mala dinamica a livello d'equipo che un nuovo entrenatore lo veste come algo positivo che che os trasmette a vosotros grazie coraggio perché quando affronti queste grandi squadre in queste grandi notti devi essere spensierato e coraggioso perché davanti avremo una grandissima squadra e il cambio di allenatore ci può portare magari a svoltare questo lo vogliamo tutti lo vogliono i tifosi e quindi come ho detto anche prima la squadra è cosciente della situazione ma ha dato il massimo e darà il massimo per uscirne tutti insieme da questo periodo Per uscirne in una maniera anche buona da questa conferenza stampa siete in tantissimi io non posso dare la parola a tutti e non vorrei vedere gente che si lamenta perché non prende la parola oggi alcuni potranno fare la domanda e altri non la potranno fare domani sera magari quelli che oggi non hanno avuto la domanda la potranno fare prego buonasera buonasera domanda per capitano sono Abdel Magiz da UDB Sports in questi momenti di crisi difficoltà cosa serve per ci serve per vincere contro una squadra esperta nel Champions League serve giocarci la partita come ho detto spensierati senza troppi avere la mente libera questo sicuramente può aiutarci insomma si fa questo lavoro questo mestiere per notti come queste per giocare partite come queste quindi dovremmo affrontarla al massimo del nostro potenziale al massimo delle nostre forze giochiamo in casa e questo può darci un'ulteriore spinta attraverso i nostri tifosi e speriamo di regalare una bella serata anche a loro Canale 21 e poi Rai vero? Salve Salve mister per lei la domanda prima Xavi ha detto non firmo per il pari lei firmerebbe in una gara del genere cioè è arrivato in così poco tempo scende subito in campo affrontando una gara Champions anche il pari le starebbe bene? Assolutamente no non siamo in Napoli ripeto questa è una squadra forte giochiamo in casa e non accetto solitamente non accetto assolutamente un pareggio prima di giocare la partita se poi Barcellona sarà così bravo da costringerci al pareggio tanto di cappello ma noi vogliamo giocare la partita per vincere Rai e poi canale 8 e poi questo collega questo signore spagnolo bene buonasera mister lei praticamente è arrivato oggi primo allenamento domani il secondo cosa può dire rispetto al Napoli di calzona di domani cioè di che cosa sarà contento di cosa potrà farla contenta di vedere qualcosa diciamo domani anche di questo pochissimo di questo brevissimo lavoro due allenamenti insomma cioè il Napoli di calzona domani che cosa dovrà avere che cosa potrà mettere in campo se i giocatori faranno quello che gli chiedo per buona parte della partita io sicuramente sarò felice perché mi faranno capire che che credono alle mie idee che gli ho spiegato chiaramente che ancora non abbiamo messo in pratica e questo già per me sarebbe un grande risultato e vuol dire anche che penso che la squadra se fa questo può raggiungere un risultato importante ma io ho chiesto di essere di essere squadra nelle due fasi e già questo mi basterebbe perché non accetto se parliamo della fase difensiva che ci sia giocatori che non partecipano o che si sentono esonerati da da questa da questo atteggiamento tattico per cui se se i ragazzi faranno questo io sono fiducioso e sicuramente sarò contento canale 8 e poi questo signore spagnolo prego per di lorenzo ciao giovanni buonasera siete usciti sabato dallo stadio con le curre che vi urlavano meritiamo di più che cosa ti senti di poter dire ai tifosi ma al di là delle dichiarazioni di buona volontà quelle sono scontate le fate sempre nel concreto che cosa potete fare di più ma ai tifosi c'è poco da dire perché anche nell'ultima partita in casa ci hanno incitato fino all'ultimo secondo e poi giustamente ci hanno fischiato perché non sono contenti dell'andamento ma i primi non essere contenti siamo noi quindi la squadra questo lo sa e ci tengo a dire comunque che la squadra non ha mai mancato di impegno anche nell'ultimo periodo ha sempre fatto il massimo per raggiungere i risultati poi si sa il calcio è così delle volte uno riesce a fare risultati positivi altri negativi però la squadra è sempre scesa in campo dando tutto e i tifosi poi sono liberi di fischiare a fine della partita però insomma non mi sento di dire niente perché sono sempre vicini a noi ci spingono sempre e domani come ho detto anche prima cercheremo di regalargli una notte bella perché se lo meritano loro ce lo meritiamo noi ce lo meritiamo un po' tutti quanti in una stagione difficile questa partita potrebbe cambiare tante cose quindi questo lo sappiamo e faremo il massimo per fare una grandissima partita buonasera Manolo Oliviero della cadena coppia due questioni usted suele jugar con un dibuixo di 4-3-3 e por otra parte che partidos ultimamente ha visto non se si ha visto in diretto al Barcelona che partidos ha visto ultimamente al al Barça grazie sto bene sì a me piace 4-3-3 però io non mi leggo ai moduli cerco di sfruttare le caratteristiche dei giocatori la squadra è stata costruita in un certo modo io di questo ne terò conto perché è giusto così De Barcellona ho visto ultimamente diciamo da spettatore ho visto uno o due partite ho seguito ho seguito quelle di campionato specialmente l'ultima e ripeto è una squadra forte difficile da affrontare ha grandi giocatori non c'è bisogno di fare nomi poi stimo tantissimo l'allenatore ciao signore ciao mister eduardo vidal per hsm deportes hai condiviso con due allenatori molto importanti nella storia del napoli come maurizio sarri e luciano spaletti cosa hai imparato di loro per affrontare questa cosa ma per me è stata una grande fortuna avere questi due allenatori che mi hanno insegnato tantissime cose hanno caratteristiche diverse ma questo ha fatto sì che io mi sono arricchito ancora di più però due allenatori con grandissima personalità con grandissima personalità magari diversi nel lavoro sul campo mister spalletti sono stato un anno solo con lui ma è stato un anno intenso ho potuto osservarlo studiarlo collaborare con lui anche se è stato solamente un anno è stato un anno di grandi insegnamenti Sport Italia e poi Corona anche di Napoli ci stiamo avviando ad una rapida chiusura una curiosità più che altro mister se le ha sentiti spalletti e sali se le hanno detto qualcosa l'hanno chiamata le hanno scritto il messaggio ma è successo talmente tutto così in fretta che a parte mia mamma mio papà mio papà e mio fratello uno dei miei fratelli nemmeno tutti e due la mia compagna e mia figlia non ho sentito nessuno giuro molto bene allora calcio hanno abbiamo detto Corona anche di Napoli scusate vai per il capitano buonasera innanzitutto benvenuto mister comunque ovviamente i risultati sono quelli che sono la classifica è quella che è è un'annata difficile come hai detto tu giustamente però ti chiedo due allenatori cambiati qual è l'impatto del gruppo della squadra anche nei nei comportamenti nelle relazioni con questi con i due allenatori sulla decisione della società e quale è stato l'impatto con mister Calzona che si è presentato a voi grazie ma intanto ci tengo a ringraziare mister Mazzarri ci siamo sentiti e dispiace perché quando si cambia allenatore come ho detto prima è una sconfitta per tutti è una sconfitta per la società per i giocatori per tutto l'ambiente Napoli e questo ci dispiace molto però la squadra ha reagito da professionisti ci siamo messi subito a disposizione del nuovo allenatore e come ho detto già da oggi la squadra ha cercato di assimilare i primi concetti che ci ha dato il mister con entusiasmo con disponibilità e poi ci sarà tempo sicuramente per lavorare meglio però la squadra si è messa subito a disposizione come deve fare e domani sera cercheremo di mettere in campo quel poco che già il mister ci ha trasmesso per fare una grandissima partita molto bene Radio Marte eccoci qua buonasera buonasera mister ben tornato allora io volevo andare un attimo lei da commissario tecnico è abituato mai da tempo a dare un'identità alla sua squadra con pochi allenamenti parliamoci chiaramente quindi le chiedo sulla base di questa esperienza ritiene di poter dare nei prossimi tre mesi una identità alla squadra perché è di un'identità precisa che questa squadra ha bisogno grazie ma se se questo non succederà vuol dire che io ho fallito perché non 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 riesco a sopportare che le mie squadre non siano ordinate non abbiano non acquisiscono una certa mentalità noi abbiamo l'aggravante che che oltre a dare a dare un'identità dobbiamo fare anche risultati e questo ci può mettere un pochino più di pressione però io ragazzi ho detto che non devono pensare a questo devo pensare a riportare quello che facciamo in allenamento avere la testa libera a pensare a divertirsi perché si chiama gioco del calcio e se facciamo questo sono convinto che possiamo fare bene Diario As volevo chiederle rispetto visto che ha studiato il Barcellona ovviamente rispetto a due anni fa in cosa lo trova diverso rispetto al match di Europa League e parlando dei singoli se può darci un'indicazione su Traoré come l'ha visto visto che lui può essere protagonista in Champions in quanto è in lista grazie ma non è cambiato tantissimo nell'atteggiamento che aveva due anni fa ripeto ha passato ha avuto un periodo di difficoltà nel 2024 hanno subito diciamo un po' più di gol della media a cui erano abituati però non cambia niente non cambia niente perché c'è il solito allenatore hanno i soliti concetti per cui non credo che ci possa essere a parte qualcosa a livello tattico novità diverse da quelle del Barcellona passato tra oré oggi abbiamo fatto un allenamento rettamente tattico è chiaro che è un giocatore che ci conto ma non solo tra oré i giocatori mi dovranno dare indicazioni durante gli allenamenti perché io sceglierò in futuro in base a quello che vedo agli allenamenti è chiaro che per domani gli allenamenti saranno due quello di oggi e quello di domattina però per me saranno indicativi per fare delle scelte tra oré sappiamo tutti che è stato tanto tempo fermo non è al 100% però in giocatori ripeto che ci conto non so se lo utilizzerò dall'inizio o a partita in corso Calcio Napoli 24 e poi chiudiamo con Teleclub Italia Salve mister bentornato le chiedevo nello staff e quindi in quello che lei vorrà portare al Napoli se vede o se è ancora possibile una figura come Amsic se ci ha pensato se è ancora possibile e poi le volevo chiedere prima abbiamo parlato di obiettivi quanto è importante questa doppia sfida col Barcellona se il presidente le ha parlato anche di quel mondiale per club che sarebbe insomma un traguardo enorme sappiamo che servono assolutamente punti in queste due gare per raggiungere come seconda squadra italiana quel traguardo se è qualcosa che le ha prospettato per dare ancora più importanza a questa doppia gara guarda ti rispondo dalla fine allora il presidente chiaramente vuole migliorare la situazione attuale non mi ha messo nessuna pressione ma io lo so cosa vuol dire per una società raggiungere i cinque posti o il mondiale per club e non ce n'era bisogno però il presidente è stato molto gentile è stato molto tranquillo non mi ha fatto nessuna pressione di nessun genere io volevo fortemente che venisse solamente lui gestisce un'academy insomma abbastanza importante e da quando ha smesso di giocare l'ha preso in mano lui e in così poco tempo non è riuscito a organizzarsi però mai dire mai perché Amsic insieme a Maradona sono i giocatori più amati credo qui a Napoli per cui oltretutto è un ragazzo fantastico collabora con me nella nazionale slovacca sono molto felice della sua collaborazione perché gli ho dato molto spazio in campo ed è veramente bravo e molto probabilmente lo vedremo da qualche parte domani allora andiamo a chiudere sì salve benvenuto è una curiosità allora Villa Boas fu esonerato dal Chelsea arriva di Matteo e vince la Champions Fai prende la Costa d'Avore in mano e vince la Coppa il Napoli e Napoli crede nei miracoli lei? ma onestamente sapevo di queste statistiche non gli do tanto peso ma io io ti ripeto io credo in questa squadra ma fortemente non lo dico perché lo devo dire lo dico perché ci credo fortemente io penso più alla mia squadra che all'avversario ma questo perché penso che questa squadra sia in grado di vincere tante partite lo dobbiamo volere lo dobbiamo volere e sarà questa la chiave per il futuro volere la chiave la chiave Grazie a tutti.